Luca Miotto, vice campione del mondo 2015, vice campione europeo 2014, campione italiano 2015, vice campione italiano 2014. Tiro a volo. Io mi sono avvicinato all'età di 11 anni, grazie a mio padre che aveva aperto il settore giovanile allo Nato. All'inizio è stata molto dura, però con la forza e la determinazione sono riuscito a conquistare titoli molto importanti. Durante le mie prime competizioni mi sono scordato di mettere le cartucce nel fucile e quindi senza queste è impossibile rompere il piattello. Quindi ho fatto anche una figuraccia con gli direttori di tiro e con me stesso. Le caratteristiche sono quali tutti gli altri sport, quindi tanta voglia di fare, tanti sacrifici e tanta determinazione. I risultati dopo vengono alla lunga. Credo che il mio più grande obiettivo è come quello di tutti gli altri atleti che praticano discipline olimpiche, cioè l'Olimpiade. Quindi lavoreremo per arrivare a questo grande obiettivo, ma con calma, che è tempo al tempo. Noi siamo fortunati in Italia che abbiamo tanti campi da tiro, quindi basta cercare il campo da tiro più vicino a casa, entrare e i campi sono aperti, quindi si vede subito lo sport come è fatto. L'Olimpiade è il più grande che c'è in Europa, quindi è anche il più bello esteticamente se vogliamo metterla così. Ringrazio tutte le persone che mi stanno accompagnando in questa meravigliosa avventura, soprattutto la mia famiglia che mi ha dato la possibilità di iniziare. Ringrazio il gruppo sportivo Fiamme Oro che mi sta sostenendo in questi anni. Ringrazio le due aziende che mi accompagnano anche loro in questa avventura, che sono la Perazzi, che è un'azienda bresciana che fornisce fucili, e la Fiocchi, che è un'azienda sempre lombarda, che mi fornisce le munizioni. Ringrazio il gruppo sportivi